Ciao ragazzi, in questo video parliamo di divisione tra polinomi. In particolare andiamo a considerare due polinomi n e d, d deve essere diverso da zero, in cui il grado del polinomio n è maggiore oppure uguale al grado del polinomio d. Cosa significa svolgere la divisione n diviso d? Cerchiamo di capirlo. L'idea è che esistono due polinomi q, che sarà il quoziente, e r, che sarà il resto, tali che n è uguale a d per q più r. Il grado del polinomio q deve essere minore o uguale del grado del polinomio n. Invece il grado del resto r deve essere minore del grado del polinomio d. Osserviamo inoltre che il grado di n è proprio uguale al grado di d più il grado di q. Da un punto di vista delle frazioni algebriche, possiamo scrivere n fratto d uguale a q più r fratto d. Ora queste formule non devono spaventarci particolarmente. Tutto funziona proprio come con i numeri. Pensate, 10 diviso 7 è uguale a 1 con resto 3. Infatti possiamo scrivere che 10 è uguale a 7 per 1 più 3. In maniera analoga 10 fratto 7 è uguale a 1 più 3 settimi. Diciamo inoltre che il polinomio n è divisibile per il polinomio d se esiste un polinomio q tale che n è uguale a d per q. Quindi stiamo richiedendo che il resto r sia nullo. Chiaramente, come già detto prima, il grado del polinomio n deve essere uguale al grado del polinomio d più quello del polinomio q. Anche in questo caso ci ritroviamo esattamente nella stessa situazione dei numeri. Sappiamo che 10 diviso 5 fa 2 con resto 0. Infatti 10 è multiplo di 5. Possiamo scrivere 10 è uguale a 5 per 2. Vediamo ora come andare a fare una divisione tra polinomi tramite un esempio. In particolare andiamo a svolgere 2x alla terza meno 5x quadro più 7 diviso x quadro meno 3. Per prima cosa andiamo a riscrivere tutto in modo ordinato in una tabella, considerando i vari gradi delle x. Riporto quindi 2x alla terza meno 5x quadro. Poi osserviamo che non c'è nessun termine con la x. Allora vado a scrivere 0x nella colonna dedicata. Infine riporto anche il più 7. costruisco questa tabella e vado a riportare x quadro meno 3, quindi il divisore, in questa zona x quadro più 0x meno 3. In realtà scrivere 0x non serve, però è importante riportare tutte le x in modo ordinato rispetto al grado. Vediamo quindi come svolgere la divisione. E partiamo dividendo 2x alla terza per x quadro. Chiaramente otteniamo 2x e lo riscriviamo qui. A questo punto vado a cercare il primo resto della divisione. Svolgo quindi 2x per meno 3 che mi dà meno 6x e vedete che vado a scriverlo nella colonna delle x. A questo punto faccio 2x per x quadro che mi dà 2x alla terza. Eccolo riportato nella colonna delle x alla terza. Trazzo questa linea e vado a fare la sottrazione. 2x alla terza meno 2x alla terza chiaramente si annulla. Riporto il meno 5x quadro e svolgo 0x meno meno 6x. Otteniamo chiaramente più 6x. Riporto poi il più 7. Ora ricomincio con la divisione e quindi considero meno 5x quadro diviso x quadro che mi dà meno 5. Ecco qui il risultato. Andiamo ora a calcolare il resto. Meno 5 per meno 3 che mi dà più 15. Eccolo nella colonna delle unità. Poi meno 5 per x quadro meno 5x quadro. Lo riscrivo nella colonna delle x alla seconda. Traccio la linea e vado a fare la sottrazione. Meno 5x quadro si semplifica. Riscrivo il 6x e svolgo 7 meno 15 che mi dà chiaramente meno 8. Ora osservo che devo fermarmi perché questo 6x ha un grado minore di questo x quadro. Quindi questo è il resto 6x meno 8. Mentre 2x meno 5 è il quoziente. Ricordando quanto ci eravamo detti all'inizio del video, possiamo andare a riscrivere il polinomio 2x alla terza meno 5x quadro più 7 come x quadro meno 3 per 2x meno 5, cioè il quoziente, più 6x meno 8, cioè il resto. E questo conclude l'esercizio. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a capire come svolgere la divisione fra polinomi. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!